Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Isola del Baonlus per sostenere le iniziative e i progetti legati al nostro territorio. A lanciare l'appello è Carlo Gasparri, presidente della Commissione Natura e Ambiente della Fondazione e promotore di importanti iniziative come il censimento dei giganti verdi, il ripristino dei punti panoramici dell'isola e di un nuovo progetto legato al mare. I bei progetti, progetti molto interessanti, ma come farà la Fondazione a portarli avanti? La Fondazione spera anche che ci sia qualcuno che arrivi. Abbiamo la fortuna di essere inseriti nel contesto di poter ricevere il 5 per 1000 nella denuncia delle redditi. Pertanto se i cittadini portofresi, tutti quelli che vogliono bene all'Elba, danno questo contributo, la Fondazione può senz'altro portare avanti progetti grossi, perché questo costa poco, perché lo facciamo noi, ma ci sono invece altri progetti che riguardano la scuola, che riguardano la sanità, in cui la Fondazione sta attenta a questi problemi. Se c'è l'attenzione da parte dei cittadini a dare il 5 per 1000, che non gli costa nulla, allora un fondo è legato alla denuncia delle redditi, noi ci troviamo in condizioni di poter fare tante cose. Io ripeto, la Fondazione è nata con questo impegno, io sono orato a essere di dentro, la mia commissione funziona benissimo, le altre lo stesso, pertanto se la gente ci dà una mano, questi lavori verranno fatti, perché in fondo le istituzioni hanno poco tempo e forse non sono come noi, innamorati dell'Elba.